La droga diventava all'occorrenza un biglietto di auguri o una stecca di biliardo. Da qui il nome dell'operazione Carambola che ha portato all'arresto di decine di persone che spacciavano droga nella zona di Rossano, in città soprattutto, nei luoghi di ritrovo, piazze, bar e discoteche. Tutto parte nel luglio del 2011. Questo è uno dei due episodi che ci hanno portato a intraprendere queste indagini. L'altro è stato un duplice tentato omicidio di padre e figlio scoperto grazie anche a delle intercettazioni e delle attività tecniche. Tra l'altro gli autori erano padre e figlio che erano concorrenti nel mercato della droga. Da qui le indagini si estendono a macchia d'olio e portano dritto ai 18 arrestati, alcuni giovanissimi, addirittura minorenni, e ad altre 6 raggiunte da altri provvedimenti restrittivi. Una persona è tuttora ricercata. Tra di loro c'è anche il cognato del presunto boss Nicolà Acri. Questo fa pensare agli inquirenti ad un'organizzazione ben strutturata che aveva un ampio giro d'affari sul territorio. Un giro d'affari diciamo abbastanza grande. I sequesti che siamo riusciti a fare non sono ingentissimi, ma sono tanti nel tempo e quindi era un mercato che era nelle loro mani stabilmente da almeno due anni. I clienti, ahimè, sono sempre più giovani. Quindi qui stiamo parlando di sostanze superficienti di ogni tipo. Cioè parliamo di cocaina, parliamo di eroina, parliamo, ahimè, di hashish e mariana. E quindi chiaramente anche minorenni, non solo come clienti, ma anche come pusher.